E' stato un ferragosto impegnativo per gli agenti del commissariato di Fano, 15 gli agenti dislocati su tutto il territorio che hanno eseguito controlli nelle zone più frequentate dalla città, in particolare nel centro storico, nella zona mare, ma anche in zone residenziali periferiche. Nel corso dei controlli sono state tratte in arresto quattro persone, una è stata sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed è stata recuperata numerosa refurtiva. Gli uomini, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno arrestato in zona Sassonia un romino di 38 anni che deve ancora scontare 3 anni e 6 mesi di carcere per diversi furti. In zona Lido invece un cittadino italiano quarantenne è stato condotto al carcere di Villa Fastigi perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione per rapine di 5 anni e 7 mesi. Sempre in zona Lido un cittadino italiano 37enne tossicodipendente è stato condotto nel carcere di Pesaro su disposizione dell'ufficio di sorveglianza di Ancona perché ha continuato a consumare sostanze stupefacenti. Agli arresti domiciliari invece c'è finito un nigeriano di 46 anni condannato a un mese di arresto per guida in stato di ebrezza alcolica, senza patente perché non l'ha mai avuta. Nell'Interland fanese la polizia ha fermato un pugliese di 36 anni, sottoposto a sorveglianza speciale dal Tribunale di Pesaro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. Nella tarda serata di sabato scorso, nella zona di San Cesario, gli agenti del commissariato hanno sorpreso una banda specializzata in furti di appartamento all'interno di una villa non abitata, intenti a forzare due armagnetti blindati. Quando gli agenti sono entrati nella villa i malviventi sono riusciti a fuggire, lasciandoli il bottino di un furto messo segno poco prima all'interno di un'abitazione di Ostravetere in Ancona. Gli agenti hanno recuperato 8 fucili da caccia, un pugnale, due scatole di cartucce e altro materiale per l'attività venatoria, oltre a numerose monete da collezione, il tutto per un valore di circa 20.000 euro. Grazie a tutti.